Bella per voi ragazzi, la serie senza tempo, Diego da solo per questo monologo post Atalanta-Lazio no, non è un'idea meravigliosa, non ho avuto una rivelazione sulla situazione attuale della nostra Lazio è solo un riflesso del lampadario e no, nessuna rivelazione quindi particolare per capire la situazione attuale dei nostri però appunto questo video è per analizzare, non dico a fondo, però insomma almeno in modo logico e lucido quello che sta succedendo secondo me, poi insomma che non so nessuno però così per chiacchierà appunto con voi, intanto mettete like, iscrivetevi, tutte quelle cose che si fanno così ci aiutate un po' a mantenere questo canale un po' in vita e cosa ci dice la partita di ieri? innanzitutto che l'Atalanta è una squadra in questo momento più forte della Lazio con individualità sicuramente più motivate soprattutto l'Atalanta è una società che negli ultimi anni, insomma già parecchio è in continua crescita, nonostante poi si dica che sì, non l'Atalanta ancora non ha vinto niente Gasperini ci sta sulle palle a tutti ribadisco quello che ho detto nel video post partita di ieri però secondo me è uno dei allenatori più forti in giro non penso si possa discutere sulle capacità diciamo calcistiche del Gasperino poi insomma simpatico quanto diciamo lo sappiamo un gatto attaccato lì però secondo me è molto forte è molto forte e questo si nota insomma si è dimostrato anche dal fatto che l'Atalanta appunto cambia continuamente nel senso ogni anno ha a parte insomma che è cambiata anche la proprietà è rimasta la famiglia per Cassi dentro anche insomma con delle quote importanti però c'è stata questa missione, questa intromissione di questo fondo americano che può iniettare denaro appunto in questa realtà perché hanno visto sicuramente del potenziale e è andato via Sartori uno dei più forti di esse più capaci al momento in Italia non solo al momento insomma dovunque è andato qualsiasi cosa è toccato è diventata Aoro ora infatti è al Bologna vediamo i risultati e nonostante ciò l'Atalanta continua a essere comunque dietro spesso dietro alle strisciate e quindi un grande lavoro di questa società che ogni anno si rinnova poi perché i giocatori pregiati insomma più o meno pregiati poi comunque lasciano la squadra ne vengono inseriti altri, fanno acquisti a prezzi ragionati e ragionevoli vendono a prezzi invece molto alti e riescono a farlo soprattutto perché poi noi siamo capaci di Bastos o Wallace voglio 15 milioni poi però ne sono solo via raramente c'è capitato tipo il famoso la famosa versione dei hot 17 milioni e quindi questo dimostra una grande capacità appunto nella compravendita perché così puoi mantenerti al livello non dico al livello delle insomma delle prime tre delle milanesi e della Juve per quanto riguarda poteri d'acquisto però puoi compensare appunto alla loro potenza economica non voglio entrare manco nel fatto dei debiti però sappiamo che le squadre di un certo valore diciamo di facciata possano comprare di più nonostante poi abbiano conti molto meno sani di quanto l'Atalanta stessa abbia però vabbè ecco il Villal Touré per esempio è arrivato a 30 milioni acquisto più oneroso della storia dell'Atalanta non ha ancora mai giocato e l'Atalanta eccola là e quindi questo potrebbe essere un esempio di come una società debba gestire una situazione media di introiti l'Atalanta è vero che ha tutta Bergamo che insomma si tifa per loro però poi al Binoleffe anche però insomma ovviamente stiamo parlando di realtà diverse è Bergamo, non è Roma o Milano insomma gli abitanti sono quelli che sono però anche lì c'è per esempio l'Atalanta ogni bambino che nasce a Bergamo invia un kit, maglietta, pantaloncino dell'Atalanta per dire una stupidaggine con lettra di congratulazioni della società sono gesti che comunque anche a livello comunicativo fanno quello che devono fare e noi leggevo anche un tweet di List Square che sicuramente conoscerete è uno dei pochi twittatori ragionanti che c'è, non me vogliano gli altri ragazzi però sappiamo che Twitter tanti ragazzi che appunto twittano lo fanno perché funziona la provocazione su questo social quindi non sempre quello che leggo è frutto di ragionamento e insomma considerazioni veritiere ecco invece List Square chi non lo conosca lo vado a seguire è uno che mette sempre dati economici, finanziari insomma smentisce sempre le bufale sia quelle che vengono dalla società sia quelle contro la società insomma un laziale tecnico molto forte e leggevo insomma che anche lui ogni tanto fa considerazioni più di diciamo da tifoso che da analista quello che mi dà fastidio che mi ferisce di questa campagna acquisti dice il buon List Square di questa sessione di mercato è che non solo gli acquisti non sono arrivati insomma non è stato fatto niente ma in realtà non si fa niente neanche a livello comunicativo gestionale, di cessioni a parte il prestito di Basic e non so chi altro Ceccarelli non mi ricordo il nome di questo ragazzo che appunto è partito e è andato via dalla Lazio e anche lì non si fa niente non si vuole cercare di ampliare il respiro di questa società che deve essere, deve continuare a essere gestita come il meme vuole l'osteria, la trattoria Lazio con la gestione familiare con il rischio di impresa abbassato sempre al minimo nel senso perché c'è chi dice allo dito gli sta bene non entra in Champions io non credo sia così in realtà però comincio a capire che se la squadra arriva in Champions il giocatore dopo appunto due mesi fatti bene e un minimo risultato arrivato lo dicevo anche ieri in un commento al nostro video il giocatore si sente subito in diritto di dover chiedere un adeguamento del contratto stai alla Lazio da un anno fai sei mesi fatti bene boom aumenta il contratto sono situazioni che secondo me sono ridicole però ecco una società che ha certe ambizioni ci deve anche combattere con questo deve giocare a questo gioco l'odito non vuole farlo l'odito non interessa guadagnare 40 milioni dell'entrata in Champions sto facendo mie considerazioni però insomma sicuramente è difficile gestire 40 milioni che entrano e poi andrà adeguato a tutti i contratti a prendere giocatori in cui paghi il cartellino il cui stipendio è più alto e insomma ci sono più responsabilità e il rischio di impresa aumenta e ecco che una gestione familiare non può permettersi di valutare tutte queste variabili che ci sono poi in una società soprattutto una quota di imborsa l'acquisto di qualche giocatore allora io sono uno di quelli che pensa che non era fondamentale inserire qualcuno in rosa perché giocatori ce ne sono non me ne vogliate insomma però secondo me quest'anno la rosa è abbastanza competitiva il discorso qual è? tu hai Zaccanni che forse in altre due tre partite te l'esalta immobile in questa situazione allora passo indietro la rosa è buona era buona diciamo a inizio anno a inizio stagione potremmo dire la rosa quest'anno è buona giocatori validi lunghezza giusta precisa insomma hai visto però che immobile sta così Castellanos non segna poi non segna è sempre relativo perché poi se ne arriva nelle palle che può fare per Poraccio Felipe Anderson pare che abbia firmato e va a scadenza e va dalla Juve Zaccanni oltre ad essere insomma fortunato in questo momento oppure sta a fare capricci e Camata non ha mai girato Basic che era il centrocampista in più il settimo è l'ha dato via insomma anche se tu non sei sicuro di entrare in Champions comprando qualcuno per rinforzare la rosa e per mettere che poi mette anche come al solito un po' di di brio nello spogliatoio non rompe l'equilibrio comprare un giocatore che possa competere con i dolari secondo me mette un po' di insomma di sana competizione lo fai anche rischiando questo investimento con diciamo la volontà con la speranza di entrare poi in Champions e di veder poi ripagato l'investimento che hai fatto lo dito che fa no io non so sicuro che entra in Champions questi sono buoni ma il mercato l'ho fatto se arriviamo con Champions con questi bene altrimenti non mi rischio di spendere 10, 15, 20 milioni per l'acquisto e poi manco ci arriva un Champions e questi 20 milioni l'ho perso ecco questo è il famoso rischio di impresa che lo dito non si vuole perdere per quello si dice che lui preferisce vivacchiare prende ogni tanto i soldi da Champions ogni tanto la maggior parte delle volte quelli dell'Europa League e qualche eccessione ogni 10 anni perché pure una eccessione importante ne famo mai il bello di avere una squadra che resta per molti anni la stessa ai suoi pro ovviamente quindi si crea una certa atmosfera nello spogliatoio perché poi se il giocatore resta non resta solo perché è comoda sta panchina perché magari poi col tempo si crea una certa atmosfera però ecco poi ogni volta che c'è l'acquisto da fa e ti sta preoccupando eh mo mannaggia mo Luisa Alberto era convinto di giocare tutte le partite mo che ce l'hanno più che faccio io purello eh io metto un altro che lo metto in ansia il poro immobile lo metto in ansia se c'è qualcuno che può competere con lui cioè quando invece me li aggancio all'Atalanta questi ogni anno ogni sessione di mercato prendono giocatori che possono mettere in discussione la titolarità di tutti i giocatori che stanno in campo e una settimana può essere titolare uno una settimana può essere titolare l'altro e lì è lì che dai tutto poi tu calciatore no? se vuoi veramente essere competitivo poi che succede anche il discorso sempre di Lotito la Lazio non è un punto di partenza deve essere considerato un punto di arrivo secondo me è sbagliato perché la Lazio non è il Real Madrid non è il Barcellona forse l'ho già fatto sto discorso non è una squadra che ha dalla sua trofei e blasone tale da potersi considerare un punto di arrivo per il calciatore no io sono più contento di essere un punto di partenza per un calciatore che abbia potenzialità e voglia e è quello che la Lazio secondo me deve puntare a essere nel senso se tu prendi un calciatore 25enne 26enne bravino e però ancora non ha fatto quel salto di qualità e magari la Lazio è proprio quel salto di qualità che fa a 25-26 anni vuol dire che quel calciatore magari a Real Madrid non ci andrà proprio mai e che la Lazio è il suo punto di arrivo più alto quindi se si è fa un anno bene si assicura il contratto per 4-5 anni e arriva a 30 anni che sta tranquillo se la sua carriera è stata alla Lazio è stata dignitosa un altro contratto di 4-5 anni ci va a chiudere proprio la carriera a Lazio ma io perché mi devo sta a a a allenarmi a fondo a mettere sempre la gamba durante in un contrasto durante la partita se tanto sto tranquillo i miei tre mioni all'anno li pio a grandi risultati non ci potrò mai arrivare perché tanto sono un giocatore mediocre a me va bene così che me frega è quello il problema della Lazio che tanti calciatori sono buoni calciatori che già sanno che non saranno mai grandissimi calciatori non possono ambire a a a palcoscenici più grandi e sto parlando da da Laziale ovviamente un po' merota di sta cosa però la realtà della Lazio è questa in questo momento tu non puoi vincere la Champions e quindi se arrivano calciatori che un giorno vorranno vincere la Champions faranno tutto per essere poi venduti magari però un calciatore viene comprato una squadra di un certo livello se i risultati in campo sono ottimali ecco secondo me la Lazio deve cominciare a pensarla così se tu hai una squadra che che fa il Mino indispensabile e vince 1-0 contro l'Empoli e vince poi 2-1 contro il Frosinone 3-1 e hanno fatto 5 vittorie di seguito siamo a posto i risultati sono buoni quando in realtà poi non si riesce a fare occasione da gol da tre partite a questa parte un tiro in porta in tre partite ragazzi cioè stiamo scherzando Sarri in questo a me dispiace perché vedo gente continuare a avere la memoria settoriale nel senso la memoria funziona un mese per volta un mese fa male Sarri Sarri è sempre stato scarso un mese fa bene Sarri è sempre il fenomeno cioè l'anno scorso siamo a dei secondi anche per marito di Sarri con gli stessi giocatori più o meno con l'inserimento di qualche giocatore più forte di quelli che avevamo l'anno scorso a parte Melinco che ci va bene e quest'anno non va più quest'anno non funziona più qualcosa e secondo me la colpa principale è degli interpreti che l'anno scorso con lo stesso modulo di gioco la stessa politica hanno fatto molto bene e quest'anno non vanno più Giacchanni si è l'unico e quando c'è sembra poter fare qualcosa in più su quella fascia ma secondo me sta anni luce indietro a quello che aveva fatto l'anno scorso ripeto Anderson non ne parliamo i mobili neanche c'erano l'anno scorso però vabbè Pedro ce l'hanno più Luisa Alberto è sempre a C&S spegne e il reparto offensivo ragazzi è in condizioni critiche e Sarri dovrebbe non dico Sarri un allenatore in generale ieri ho fatto l'esempio ancora di Gasperini se non va questa cosa si cambia anche se io sono molto affezionato e penso che questo modulo sia il migliore per come vedo io il calcio però se poi i giocatori in campo non possono farlo quel tipo di gioco se io voglio una rete di passaggi fitta per poi verticalizzare ma vedo questa rete di passaggi fitta non riesco a farla perché i giocatori con campo i giocatori campisti con campo sono incursionisti in area di rigore o sono legnatori o sono lenti e compassati anche se bavi tecnicamente sto fanno caratteristiche a caso non parlo dei nostri in generale vuol dire che quel tipo di gioco non posso farlo e vuol dire che me devo mettere go per 4-4-2 a una certa e a una cerca di fare un go in più dell'avversario e dico cosa a caso però ho capito quello che intendo Gasperini ieri giocava con Pasaric falso 9 trequartista e De Cataler e Miranciuc che a turno andavano avanti e ci hanno fatto una testa così secondo tempo è entrato Scamacca al posto di Miranciuc Pasaric è ritornato a fare trequartista e Scamacca ha fatto la boa davanti quindi anche stessa formazione praticamente ma intesa in modo diverso e questo Sarri non lo fa mai i cambi sono sempre uno per uno lo sappiamo insomma ruolo per ruolo e forse in queste situazioni serve qualcuno invece più elastico perché e qua vado dalla società se tu pensi che i giocatori sono buoni se tu pensi che sia una squadra che può entrare in Champions tranquillamente e quello è il tuo obiettivo se i risultati non arrivano con i giocatori buoni vuol dire che il problema è l'allenatore quindi e quindi l'allenatore lo devi cambiare eh parlo a te società e e si chiude il cerchio in una società che in realtà non gli frega niente di quello che succede cioè basta che si galleggi basta che non andiamo a un Serie B basta che si arriva a un piazzamento in cui ci sia un minimo di introidi se la Lazio quest'anno si qualifica te dico in Conference lo sai quanti eh giocatori non potranno più richiede un un aumento un adeguamento eh secondo me è questo un po' quello che eh non è quello che vuole lo Tito ma gli va benissimo gli va benissimo che succede questo sono meno gatte da pelare quindi eccoci qua perché siamo siamo in questa situazione secondo me Sarri adesso deve provare a fare un un passo indietro anche se lui dice non esiste e ha ragione non esiste la formazione migliore del mondo che ti garantisce risultati se no tutti facevano quella e ecco però appunto esiste una formazione che si va a modellare intorno ai giocatori che hai se tu continui con questo modulo e vedi che i giocatori che l'anno scorso ti seguivano quest'anno non gli va tanto devi fare qualcosa a riguardo secondo me cambia modulo cambia giocatori metti in tribuna Felipe Anderson perché ripeto ieri ha fatto una cosa che ha causato poi il rigore al nostro favore una cosa ha fatto gli avessi accesa una volta la lampade gli ha fatto un tunnel uno scatto palla a Guendosic e poi ha lanciato cosa immobile e se è così una cosa a partita non ci interessa non ci serve tu vai via l'anno prossimo mi dispiace Felipe saltere in tribuna faccio a sto punto gioio veramente Fripe Andes Osana Fernandez tanto cosa non compra niente lo dito andiamo così cioè facciamo anche scelte di coraggiose e di principio video confuso come al solito però penso di essere stato di aver detto quello che pensavo sarà lungo che arriverà alla fine è un eroe però insomma siamo tutti eroi in questo in questo momento speriamo che la partita contro il Cagliari ci dia almeno quella quella spinta necessaria per andare a giocare contro il Bayern almeno con un pizzico di di positività che poi ripeto con questo atteggiamento con la Lazio che possiamo fare siamo siamo questi facciamo quello che possiamo non arriveremo da nessuna parte cioè prenderemo 10 gol contro il Bayern spero che si capisca che alcune partite vanno affrontate nonostante la differenza che può essere minima come quella di ieri contro l'Atalanta parlo di valori tecnici e massima contro come con il Bayern questo tipo di partite vanno affrontate col doppio col triplo con 10 volte tanta carica speriamo che prima o poi succeda ragazzi noi siamo sempre qua sempre con te e San Valentino lo passeremo con la Lazio dai forza Lazio like campanella iscrizioni dai